Ciao a tutti, ancora benvenuti a un nuovo appuntamento della Pianolink Virtual Tournée. Tutti i giorni alle 17.30 in live streaming sulla pagina Facebook di Pianolink e di una onlus ogni giorno diversa. Il concerto di oggi è dedicato a C6 Siloku. Al pianoforte Silvia Rimedio. Buon concerto a tutti voi. Ciao a tutti, mi chiamo Silvia Rimedio e vi do il benvenuto a casa mia a Milano per il quinto appuntamento della Pianolink Virtual Tournée, una tournée musicale virtuale che si svolge mediante la pubblicazione di alcuni video musicali sulla pagina Facebook dell'associazione Pianolink Pianolink contestualmente sulle pagine Facebook di alcune associazioni di volontariato, onlus, che hanno come obiettivo comune quello di fornire cura e difesa alle persone più deboli. Per chi di voi non la conoscesse, Pianolink è un'associazione musicale della quale sono orgogliosa di fare parte da anni, che tra l'altro ha come obiettivo quello di creare un link tra il mondo professionale e il mondo amatoriale, al quale ultimo appartengo anch'io, che di professione non sono musicista, ma condivido con i veri musicisti la passione per la musica e in particolare per questo strumento. L'intervento di questa sera è dedicato a C6 Siloku, una onlus che è stata costituita nel 2015 da un gruppo di giovani donne accomunate dalla fiducia nei confronti della vita e dall'esperienza della lotta contro il cancro. La missione di C6 Siloku, dove Siloku è una parola giapponese e la cui traduzione italiana è C6, è quella di fornire supporto ai pazienti oncologici e ai loro familiari lungo l'intero percorso terapeutico, con una particolare focalizzazione sulla persona e quindi valorizzando e attuando una serie di iniziative finalizzate ad offrire un supporto a 360 gradi. Io ho pensato di farvi ascoltare un intermezzo di Brahms, l'intermezzo opera 118 numero 2 e poi due trascrizioni, una trascrizione per piano solo di un brano di Masné e una trascrizione di Bach del concerto a re minore di Alessandro Marcello. In particolare io eseguirò soltanto il secondo movimento e poi ho pensato di farvi ascoltare un unimento. In particolare io eseguirò soltanto il secondo movimento e poi ho pensato di farvi ascoltare un intermezzo di bambino, in particolare io eseguirò soltanto il secondo movimento e poi ho pensato di farvi ascoltare un intermezzo di Bambino, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , 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